Ho guadagnato 11.000. Solo una settimana fa ho compilato velocemente il modulo di registrazione su un sito finanziario. Ci ha messo meno di 5 minuti. Pensavo fosse una truffa e ho deciso di chiamarli. Il manager ha detto che tutto funziona automaticamente. Ho iniziato a investire con 250 euro. All'inizio c'è stata una piccola caduta, ma dopo un paio di affari i soldi hanno iniziato ad aumentare e il giorno dopo avevo già il doppio sul conto. Volevo già uscire dal gioco, ma ho deciso di continuare. Ed ecco che in 6 giorni più del 90% delle transazioni mi hanno portato grandi soldi. Tutto funzionava come doveva. Ho prelevato in contanti 11.000 e ho pensato, bravi che hanno creato un tale programma. Chiunque mi conosca può ripetere il mio risultato in solo una settimana. È tutto semplice. Ti registri, verifichi il numero, investi e tutto. Così si può guadagnare facilmente.